Nel 1985 non era facile avere una videocamera luminosa. Soprattutto quando giravi di notte. Eccoci improvvisando a San Francisco. Ma con questo abbiamo fatto il suo video. Cercando fonti di luci dalle vetrine dei negozi per avere qualche inquadratura interessante. Zucchero è un personaggio istintivo. Non piacciono le inquadrature in posa. Bisognava cogliere l'attimo. Il girato è poi servito per il montaggio del video canzone triste.